bui toni presenta l'uomo questa meraviglia bambini è vero o no che non c'è niente di più divertente che rompere un giocattolo appena ricevuto in dono per vedere come è fatto dentro bene io voglio seguire questa vostra inclinazione vi mostrerò una meravigliosa macchina proprio dal di dentro parlo del vostro organismo seguitemi ecco una delle più interessanti meraviglie del nostro corpo i riflessi nervosi questo signore sta viaggiando in automobile ad un tratto si trova un autocarro davanti il signore che ha riflessi fronti così va meglio il signore frena come è potuto avvenire questa fulmine a reazioni ad un pericolo per mezzo di un riflesso nervoso l'occhio ha visto l'ostacolo e ne ha informato il cervello il cervello risponde allo stimolo inviando i muscoli della gamba all'ordine di agire i muscoli entrano in azione e il piede freme il pedale del freno tutto ciò in una frazione di secondo ci sono poi altri riflessi nei quali non interviene la nostra volontà quando ritiriamo di scatto la mano scottata spalanchiamo gli occhi al buio o li socchiudiamo alla luce scansiamo un pugno in questi casi l'eccitazione nervosa viene trasmessa direttamente al midollo spinale ed è questo che invia ai muscoli l'ordine di movimento il cervello non viene nemmeno disturbato per simili qui squiglie la velocità con cui si trasmettono le eccitazioni lungo le fibre nervose è formidabile 468 chilometri l'ora grazie a questa velocità il nostro corpo è sempre pronto a reagire a qualsiasi minaccia caro telespettatore come vedi ho parlato proprio di te di quella meravigliosa macchina che è il corpo umano per conservarlo in piena efficienza nutrilo con un'alimentazione sana ed equilibrata ecco quello che occorre pastina glutinata buitoni la pastina buitoni è pastina glutinata è leggera e nutriente si fa forte e intelligente se non mangi la pastina tu diventi pallida pastina glutinata buitoni e da oggi una grande novità spaghetti glutinati buitoni o asciutta o in brodo in un piatto l'energia di un giorno